ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video veramente questa sarà almeno la stessa volta che provo a fare questo video spero che non ce ne sia anche una settima o un'ottava però per me come sapete è un momento difficile però mi son detta faccio questo video adesso mai più perché poi voglio cercare di non pensare a quello che mi è capitato perché perché altrimenti mi comincio a venire da piangere preferisco non piangere più ma voglio soltanto sorridere quindi ho detto faccio questo video adesso che fresca la cosa poi magari ne farò anche un altro su come superare la morte di un animale domestico però magari più un po più in là allora come si fa a capire se il nostro animale ormai è arrivato alla fine dei suoi giorni la prima cosa che dovete notare come respira perché se la sua respirazione improvvisamente diventa più debole o affannosa evidentemente c'è qualcosa che non va molto probabilmente vi lascerà insieme il mio cane aveva il respiro molto affannoso faceva proprio una cosa allucinante però chiaramente per i medici non ero un caso urgente da visitare subito e vabbè se ha problemi di anorressia secondo punto perché se ha problemi di anorressia c'è un conto se voi gli date l'insalata e non se lo mangia perché pure il mio per esempio quando stava bene gli davamo l'insalata ma non se lo mangiava però quando ha cominciato a star male ci poteva basta pure il suo cibo preferito ma non lo mangiava c'era qualcosa che non andava se i muscoli non funzionano più tanto bene cioè se per esempio notate che cammini in maniera strana però senza un motivo cioè senza un apparente motivo perché se per esempio il vostro cane o il vostro gatto ha avuto un incidente per esempio e cammini in modo strano evidentemente perché appunto si è fatto male un po come voi vi rompete una gamba volete camminare bene no però se senza un motivo il vostro animale che comincia a camminare in maniera strana come faceva il mio cane no assolutamente no no c'è qualcosa che non va il quarto punto è se improvvisamente diventa incontinente cioè significa che se la fa addosso quello il punto più brutto perché se un cane o un gatto comincia a farsi proprio i bisogni addosso significa proprio che da lì a pochi minuti muore perché soltanto così succede un altro punto è vedere la pelle se è asciutta o meno perché se è asciutta significa che il cane o il gatto è poco idratato e quindi se è poco idratato potrebbe morire per disattrazione non so come si pronuncia non so se l'ho pronunciato bene comunque se per esempio notate che il vostro cane o il vostro gatto non è più attivo come prima c'è qualcosa che non va anche in questo caso cioè se notate un diverso atteggiamento nel vostro animale allora c'è qualcosa che non va perché purtroppo devo dirvi la verità che quando il mio fidanzato venne a novembre l'ultima volta che lui ha messo piede a chiedi praticamente anche se non abbiamo avuto modo di fare un video insieme in quel periodo però ci siamo visti praticamente il mio fidanzato aveva notato che questo cane che prima cioè faceva le feste per esempio quando noi tornavamo ci saltava addosso quasi a farci cadere improvvisamente non non l'ha fatto più cioè ci faceva sempre le feste però in maniera più cauta noi abbiamo associato questo comportamento alla crescita perché avevo pensato è chiaro no il cane più si fa vecchio e e meno vuole diciamo tra virgolette giocare con noi avevo pensato questo però attenzione perché un punto non sottovaluta perché potrebbe essere un sintomo appunto di vecchiaia ma anche di altro quindi fatelo comunque vedere se il vostro cane o il vostro gatto si lamenta di continuo urla proprio fatelo vedere perché potrebbe essere benissimo ecco come il mio cane un tumore perché così è cominciato cominciato con questi dolori lancinanti che poi l'abbiamo portato da un veterinario che diceva è artrosi e poi siamo finiti a c'è un tumore alla milza per poi finire è morto cioè così io non riesco ancora a capire come è possibile sbagliarsi perché artrosi e tumore sono due cose completamente diverse però è chiaro che l'altro veterinario non aveva la struttura adatta se il vostro animale questo è l'ultimo punto appare più triste del solito però senza un motivo non è che abbia fatto qualcosa perché a volte è successo per esempio quando è morto mio nonno il mio cane stava bene però era triste però in quel caso c'era un motivo però se notate che il vostro animale è più triste del solito mettiamo gli occhi lucidi perché sta piangendo in modo suo di piangere diciamo così senza motivo allora c'è qualcosa che non va che lo tormenta e poi questo è un altro punto che vorrei aggiungere non so se a voi è mai capitato se voi esseri umani che siete appunto i padroni dei vostri amici a quattro zampe se siete agitati o meno perché per esempio la notte tra il 9 e il 10 a me ha cominciato a far male il palmo delle mani quando di solito a me fa male perché sono agitata cioè proprio ero agitata me lo sentivo avevo questa sensazione tant'è vero che mi ero messa a fare delle ricerche su fatto su come scoprire se un cane sta morendo o meno però dalle ricerche che avevo fatto io il mio cane aveva pochissimi sintomi rispetto a quello che ho trovato quindi ho detto vabbè sto tranquilla però meglio portarlo dal veterinario perché comunque qualche problema ce l'ha però noi non immaginavamo che sarebbe andato a finire così non doveva andare a finire così e quindi se il vostro cane o il vostro gatto presenta anche soltanto uno di questi sintomi per evitare che poi finite come siamo finiti noi che di colpo ci siamo ritrovati in una realtà orribile perché non siamo stati preparati per niente cioè di colpo lo stesso giorno abbiamo scoperto che aveva un tumore e lo stesso giorno è morta cioè per intenderci come è stato veloce il tempo cioè senza neanche il tempo di prepararci cioè psicologicamente quindi se il vostro cane o il vostro gatto sta soltanto uno di questi sintomi mi raccomando andate da da una clinica e se per caso succede come è successo a me che per qualche strano motivo non l'hanno reputato caso urgente di questi tempi non si sa i vetrinari sono aperti però soltanto per i casi più urgenti per intenderci se tu vuoi portare il tuo gatto il tuo cane perché mettiamo li sei spezzata un'unghia quelli non te l'accetteranno mai per intenderci cioè vogliono soltanto casi urgenti io il consiglio che vi do lo so che è una cosa sbagliata perché io sono sempre stata contraria a queste cose però il consiglio che vi do è esagerare un po' perché altrimenti poi finite come me ma non è un caso urgente quindi lo posso vedere domani lo posso vedere tra una settimana e alla fine guardate come è andata cioè non dico che non dico che sarebbe andata diversamente perché alla fine questi tipi di tumori purtroppo al cane sono letali se lei veniva operata a quest'ora vabbè magari era con noi è tutto però io ho fatto delle ricerche e pare che questi tipi di tumori se il cane viene operato massimo un mese di vita c'ha davanti non di più quindi muore se invece oltre all'operazione fa anche la chemioterapia sei mesi quindi alla fine il mio cane comunque era spacciato comunque cioè non è però forse è stato meglio così come hanno detto i dottori perché gli abbiamo risparmiato soltanto ulteriore sofferenza cioè forse è meglio così cioè perché se lei doveva soffrire altri mesi perché io me l'immagino no? il calvario di tutti quei mesi a soffrire povera bestia non se lo meritava quindi è stato meglio così spero che con questo video vi possa aiutare anche se anche per me è un momento difficile non è solo per voi che state guardando questo video perché magari avete qualche dubbio se il vostro animale sta per morire o meno cioè ma anche per me però vabbè che dire cerchiamo di andare avanti chiaro che il mio cane lo si può sostituire con nessun cane magari più in lame ne riprendo un altro però non sarà mai quello cioè non sarà mai quel cane e sbagliano quelle persone che dicono ma sai che mi è morto un cane me ne ti faccio un altro come per dire mi sono rotto il telefono ma vado al negozio e me ne riprendo un altro perché il cane è diverso e anche il gatto vabbè comunque l'animale in genere però ho detto magari più in là non lo so cioè non lo so perché io mi sento così cioè come dire non ce l'aspettavamo tutti quanti tant'è vero che quando ho avvisato il mio fidanzato lui lui è rimasto impassibile proprio impassibile di ma tu stai scherzando e io no guarda che non è uno scherzo no no tu stai scherzando cioè lui non ci voleva credere perché il cane stava bene non aveva sintomi anche perché io comunque a lui li mando sempre li mandavo sempre delle foto tipo io che abbracciavo il cane dicendo ti stiamo aspettando sempre così però si vedeva questo cane che stava bene comunque che si reggeva e di colpo quello se vi sto arrivando ha chiamato e dice il cane è morto no è uno scherzo non è possibile però poi alla fine lui non l'ha presa tanto bene e sta soffrendo esattamente come sto soffrendo io in questo momento ma non è l'unico anche altre persone amici perché comunque dispiace perché è sempre una creatura che se ne va che comunque poteva vivere qualche altro anno perché è morta diciamo che a ottobre erano otto anni che che stava qua però pare che questi cani questo genere di cani hanno vita breve però vabbè che dire io proverò ad andare avanti spero di farcela spero anche voi che state guardando questo video se per caso non si potrà far niente per il vostro animale preparatevi psicologicamente e magari con questo video ci diamo forza l'un con l'altro ciao ragazzi grazie